Bella a tutti ragazzi con un nuovo video, io mi chiamo Mario Lino Pippo e qui sono con Mike Gabri 2004 e oggi siamo su Gare Malate e... vi ho detto ciao raga ma voi non lo sentite perchè ho la cuffia ovviamente e... siamo su... lui si è preso l'Agentorno ma io mi sono preso l'Avosiris più scarsa di lui ovviamente e... siamo partiti prima perchè... eh... ci sono stati una serie di problemi con la linea e... adesso stiamo partendo tre due uno via siamo partiti? allora... eh... siamo con un... una specie sia wallride sia spirale una specie infatti vi avevo detto che vi mettevamo pure la spirale eh... questa macchina è di merda raga cioè... lo Siris mi piace un botto però non mi sono potuto ammettere quella che avete visto negli altri video eh... qua si gira qua si va a sinistra ovviamente no non volevamo prendere a Mike però l'abbiamo preso ugualmente è soltanto un caso è bello che te l'ho messo laterale io l'ho messo laterale raga io l'ho messo laterale ok cioè raga qua dobbiamo fare tutto il giro del cazzo e poi andare a fare... cioè ha fatto un giro del cazzo per fare cosa? un cazzo cioè in pratica i wallride sta all'aeroporto di... Mike Gabriel ha fatto un salto raga noi non stiamo a fare nessun salto oppure lui ha pure l'azio intorno modificata al massimo noi abbiamo questa merda qua o Siris attenzione raga l'ho ucciso qua raga i checkpoint sono stati messi un po' a cazzo certo allora da qua inizia wallride raga allora attenzione abbiamo... abbiamo preso la traversa abbiamo preso la traversa raga abbiamo preso molta la traversa allora qua non tocca prendere il turbo e andare allora attenzione al secondo colpo noi ci riusciamo raga ma andiamo in cu... si frato ho messo pure l'aiuto... raga io ho messo pure l'aiuto giocatore in coda cioè nel senso se uno sta avanti ovviamente quello di dietro dovrebbe recuperare a quello che sta davanti cioè io l'ho messo raga cioè non è buono non è manca quello allora io ho messo due giri raga ho messo due giri ce l'ha fatta pure Mike Gabby attenzione si è suicidato però non è ma attenzione Pamm pamm pam pamm 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 tanto 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 questo si deve meno noi continuiamo sempre mentre lui sta ancora la cioè raga allora se io adesso ci riesco al primo colpo cioè mi fate un bel favore di mettere cioè 7000 like come minimo cioè non chiedo non chiedo troppo però c'è raga uno che ce la fa al primo colpo raga ma ne manca il sicuro cioè io devo prendere l'albero c'è dimmi se è una cosa del genere raga allora freniamo raga si si ti sta ascoltando molto e forte e chiaro molto chiaro allora ecco eccolo raga eccolo raga eccolo raga attenzione ce la possiamo fare al primo colpo e ce la facciamo al primo colpo raga e ce la facciamo al primo colpo e ce la facciamo al primo colpo raga e andiamo a concludere in prima posizione mentre mike gabry guardatelo guardalo 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 tredici secondi tredici secondi raga e io ho fatto solo questa gara perché non posso fare tantissimi video perché devo andare e oggi 7000 like per questo video ciao a tutti ciao raga e sono arrivato primo tredici secondi 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 tredici secondi